Benvenuti sul canale. Oggi vi portiamo le anticipazioni della promessa di sabato 29 e del doppio appuntamento di domenica 30 giugno. In questi episodi vivremo momenti carichi di tensione e colpi di scena. Cruz decide di saldare i conti con gli odiati cognati e lo fa in modo drammatico lasciando morire Fernando. Allo stesso tempo Abel e Manuel scoprono di essere entrambi innamorati di Ana creando una situazione carica di tensione e rivalità. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessuna delle prossime anticipazioni e novità su La Promessa. Mettete un like se siete curiosi di vedere come si evolveranno queste storie e attivate la campanella per non perdervi nulla. Cominciamo. Dopo che Ximena ha schiaffeggiato Teresa quest'ultima scende piangendo disperata nella zona del servizio e incontra Ana che le chiede cosa sia successo. La domestica la esorta a non lasciar passare l'incidente con Ximena ma Teresa non vuole dirlo a nessuno e quando le viene chiesto quale sia stato il suo errore risponde che preferisce dimenticarlo e non dice nulla. I marchesi stanno facendo una passeggiata e Cruz preoccupata chiede a suo marito Alonso se è vero che suo fratello vuole comprare La Promessa. Alonso conferma ma dice che non ha intenzione di venderla. Cruz è preoccupata per il possibile matrimonio di Martina con Don Antonio e l'influenza che i suoi cognati potrebbero avere per ottenere la proprietà in futuro. Per lei questo è l'inizio della fine della sua famiglia e il conto alla rovescia è già iniziato. Intanto Teresa va a chiedere spiegazioni a Mauro per aver raccontato a Manuel della macchia di sangue di Ximena. La domestica è furiosa con lui perché l'ha messa in imbarazzo. Feliciano parla con Pia per cercare di risolvere le cose. La governante lo interroga su come abbia ottenuto l'informazione del convento ma il ragazzo esita e si innervosisce poi se ne va continuando a tacere sull'argomento. La marchesa mentre fa colazione da sola per evitare di incrociare i suoi cognati chiede a Petra se ha scoperto qualcosa su Ramona ma la cameriera risponde di non avere notizie da darle poiché Simona le ha detto ben poco. Ximena si trova con Hana che le chiede spiegazioni per quanto accaduto con Teresa. Lady bugiarda finge di piangere facendo la vittima così per cambiare argomento. Si calma solo quando arriva Manuel e Hana li incoraggia a fare una passeggiata insieme nel giardino. Nel frattempo nel cortile Candela trova un secchio per terra con la fuligine dei camini. È stato Feliciano a lasciarlo lì. Lope e Mauro attaccano il giovane sostenendo Candela perché la fuligine avrebbe potuto macchiare i vestiti stesi ad asciugare. Mentre sono in piena lite arriva Romulo a riportare la calma e convoca Feliciano nel suo ufficio per chiarire quanto accaduto. Poco dopo chiama anche Lope e Mauro chiedendo loro di risolvere le controversie con il fratello di Petra perché non accetterà altre discussioni. Hana dice ad Abel di stare attento a Ximena a causa dei suoi improvvisi cambiamenti d'umore e gli chiede di parlarne con il suo amico Manuel affinché si prenda maggiore cura della moglie. In un'altra parte del palazzo Fernando dice a Margarita che devono tornare a Madrid per recuperare la loro vita precedente che secondo lui era molto più tranquilla rispetto a come stanno qui alla promessa ma sua moglie risponde che non vuole andarsene perché vuole vedere soffrire i marchesi come loro li hanno fatti soffrire per anni. All'improvviso appare Martina e Fernando le dice che vuole conoscere i suoi veri sentimenti e desidera ascoltarla. Sua figlia risponde che da quando sono arrivati alla promessa hanno portato solo tanta infelicità. Hana è nella capanna di Ramona e le ha portato un pasto per la cena. La donna le chiede di perdonare suo fratello poiché lei lo ha già fatto. Hana ritorna sul tema di sua madre Dolores che da quanto dice l'anziana potrebbe essere ancora viva. Ramona le racconta che una volta quando era piccola la sentì aggirarsi intorno alla casa. Intanto al palazzo la mattina seguente Feliciano sta aiutando Fernando a vestirsi. Il ragazzo gli chiede se sta bene notando un'espressione triste. Fernando risponde che non è facile mantenere sempre l'apparenza di un uomo forte e sicuro di sé. Inoltre confessa di credere di aver agito in modo sbagliato ultimamente e si interroga se continuare a confrontarsi in quel modo con suo fratello e con sua figlia. Fernando sente che qualcosa si è irrimediabilmente rotto tra lui e Martina e Feliciano gli risponde che in caso di dubbio dire la verità è sempre la scelta migliore. Sentendo queste parole Fernando decide di fare una passeggiata con sua figlia per ascoltarla e seguire un percorso di confidenza e onestà. Nel frattempo il marchese è nelle scuderie e sta per uscire a cavallo di mattina presto quando arriva suo cognato Lorenzo che gli dice di essere di passaggio. Il marchese confessa che sta passando un brutto periodo a causa dei disaccordi con suo fratello Fernando e allora che Lorenzo gli consiglia di non arrendersi ma di sistemare le cose con lui. Nella lavanderia Feliciano dopo aver dispensato buoni consigli a Fernando mentre parla con Teresa decide di essere sincero confessando di aver rapito lui il bambino di Pia e di averlo consegnato alle suore del convento. Teresa è scioccata e furiosa risponde che non può perdonarlo e se ne va in lacrime. Abel va all'angar per parlare con il suo amico Manuel e chiedere aiuto per Ximena. Secondo il medico Manuel dovrebbe prestare più attenzione a lei. Durante la conversazione però il signorino deve assentarsi un momento e Abel rimasto solo inizia a guardare i disegni di Manuel dei suoi progetti dell'aeroplano quando improvvisamente trova il disegno che il signorino ha fatto di Hana. Donna Cruz va nella stanza di Fernando e Margarita ma trova solo Fernando. Lui le chiede di mettere da parte le loro divergenze e ricominciare da capo ma la Marchesa risponde di non credere a questo cambio di atteggiamento sospettando che ci sia dietro qualche trappola nei loro confronti. Cruz ordina a Fernando di lasciare la promessa con sua moglie proprio in quello stesso giorno e l'avverte che non è disposta ad aspettare oltre. In quel momento però a Fernando viene un nuovo attacco di cuore e Cruz diventa molto nervosa nel cercare il barattolo delle pillole che trova finalmente dentro la sua giacca. Donna Cruz ha in mano la pillola che potrebbe salvarlo ma con un gesto spietato decide di non dargliela e si accanto a lui osservandolo morire lentamente. Con un freddo distacco si congeda con le parole addio caro cognato ci vediamo all'inferno. Non appena Fernando esala l'ultimo respiro donna Cruz sfoggia un sorriso sibillino e lascia la stanza abbandonando il corpo senza vita del cognato. Contemporaneamente nell'hangar Abel è solo contemplando il disegno che Manuel ha fatto di Hana e riflette sulle parole dell'amico di essere innamorato di un'altra donna. Proprio quando Manuel fa ritorno all'hangar Abel nasconde rapidamente il disegno sospettando che il marchesino sia innamorato di Hana. Nel frattempo nel salotto la marchesa suona il piano apparentemente tranquilla e distaccata dopo quanto accaduto al cognato. Viene interrotta dall'arrivo di suo marito Alonso che ignaro di tutto le dà un bacio affettuoso. Alonso le comunica la sua decisione di collaborare con Fernando e Margarita per organizzare la festa di fidanzamento di Martina esprimendo il desiderio di riappacificarsi con suo fratello. Chiede a Donna Cruz di abbandonare l'atteggiamento ostile e lei con astuzia acconsente a collaborare. In un'altra scena Curro discute con sua sorella Hana che gli trasmette i sentimenti positivi di Ramona nei suoi confronti. Tuttavia Curro rimane convinto che la donna nasconda qualcosa. Hana suggerisce che Ramona potrebbe semplicemente essere confusa. Intanto Ximena cerca Teresa per scusarsi dello schiaffo che le ha dato precedentemente. Quando la trova le promette che non succederà più ma chiede a Teresa di non disobbedire ai suoi ordini diretti. Dopo aver accarezzato la guancia precedentemente colpita Ximena lascia la stanza lasciando dietro di sé un'atmosfera tesa. Salvador e Maria Fernandez ritornano dal viaggio a Cordoba. Lope si preoccupa per l'operazione all'occhio del suo amico ma lui e Maria spiegano che bisognerà attendere alcuni giorni per sapere se l'intervento è riuscito. Poi Salvador incontra Abel e gli consegna un pacco contenente un libro di anatomia, un regalo dall'oftalmologo. Abel consiglia a Salvador di riposare e di evitare sforzi fino alla rimozione della benda. Manuel e Ximena, seguendo i consigli di Abel, passeggiano nel giardino. Durante la passeggiata Ximena confida a Manuel di avere una cattiva premonizione riguardo al bambino. In cucina Candela esprime la sua ansia riguardo alla proposta di matrimonio di Don Carlos. Simona la incoraggia a prendere una decisione e a rispondere all'uomo. Anche Lope conferma il consiglio di Simona suggerendo a Candela di chiarire i suoi sentimenti. Maria Fernandez racconta a Hana come è andata l'operazione di Salvador a Cordoba e poi le chiede se ci sono state novità alla promessa. Hana le rivela che hanno battezzato Dieguito, il figlio di Pia, ma senza celebrare l'evento. Aggiunge che Curro sospetta che Ramona stia nascondendo qualcosa e Maria concorda osservando che se Ramona e Dolores erano così amiche sarebbe naturale aspettarsi che condividesse tutto con loro. Successivamente le due si recano nell'ufficio di Pia per vedere Dieguito. Trovano la governante visibilmente esausta. Hana e Maria condividono con lei la preoccupazione riguardo a Petra che, essendo stata vista con il bambino in braccio, potrebbe rappresentare un pericolo per lui. Successivamente Abel e Hana si recano all'hangar per scambiare quattro chiacchiere con Manuel e trascorrere del tempo insieme. Si interrogano sulla possibilità di volare di notte in futuro. Intanto, nella zona da stiro, Teresa, ricordando la confessione di Feliciano riguardo al rapimento del bambino, scoppia a piangere. Donna Pia la avvicina e, dopo qualche esitazione, Teresa le rivela che è stato Feliciano a rubare il bambino e a portarlo al convento. La governante, sopraffatta, scoppia a piangere anche lei. Contemporaneamente, Catalina parla con suo padre Alonso e gli racconta dell'operazione di Salvador. Poi arriva Feliciano, chiamato dal Marchese. Alonso vuole sapere se sa dove si trova suo fratello e Feliciano ipotizza che Fernando sia andato a passeggiare con Martina, non avendolo visto per tutto il giorno. Alonso esprime il desiderio di riconciliarsi con Fernando a cena e qui ci verrebbe da dire «peccato che non ci abbia pensato almeno un paio di puntate prima». Dopo una passeggiata, Curro e Martina rientrano e il Marchese chiede loro dove sia suo fratello. Non avendolo visto, concludono che Fernando sia rimasto solo nella sua stanza tutto il giorno. Martina decide di andare a cercarlo e, entrando nella camera da letto, lo trova a terra e inizia a gridare chiedendo aiuto. Alonso arriva, si accascia a terra e abbraccia suo fratello sconvolto. Anche la Marchesa è presente e, osservando la scena con un'espressione impassibile, dice a Curro di chiamare il dottor Abel. Nel frattempo, in cucina, Abel stava raccontando i dettagli dell'operazione all'occhio di Salvador, quando Catalina, piangendo disperata, lo informa della situazione urgente. Nonostante gli sforzi per consolarla, lei sa che è troppo tardi. Fernando è già morto. Il dottore, infatti, conferma il decesso, rivelando che è avvenuto nelle prime ore del mattino. Alonso si sente in colpa per non essere andato a parlargli prima, pensando che avrebbe potuto salvarlo. La sua falsa moglie Cruz commenta che la vita di Fernando era appesa a un filo e, sfortunatamente, quel filo si è spezzato. In cucina, il maggiordomo Romulo Baeza annuncia a tutti della morte del fratello del Marchese, Don Fernando de Lujan. Candela osserva che sembra ci sia una maledizione nel palazzo, data la frequenza con cui accadono decessi, ignara del fatto che, più che una maledizione, alla promessa si aggira un'assassina. Il maggiordomo poi chiede a Feliciano di vestire il defunto per prepararlo al funerale, aggiungendo che lui e Mauro lo aiuteranno. Dall'altra parte, Salvador sta tagliando la legna nel cortile quando Feliciano gli si avvicina, dicendogli di smetterla di fare sforzi e che si occuperà lui di tutto più tardi. Ximena è sola nella sua stanza quando improvvisamente arriva a Bel per controllare se sta bene. Le consiglia di non preoccuparsi troppo e di prendersi cura di se stessa. Nel frattempo, Curro è nel campo, pensieroso, quando arriva Hana a cercare di consolarlo. Il ragazzo è triste perché si ricorda della morte di suo nonno, il barone dell'Inaia, e non capisce perché Martina voglia stare sola in un momento così doloroso. Hana lo incoraggia a essere pronto a starle vicino quando Martina ne avrà bisogno. Mentre preparano il defunto, Feliciano è molto turbato. Si accorge che Fernando non indossa la fede nuziale. Romulo la prende e la dà a Feliciano, affinché abbia l'onore di mettergliela, creando una scena di dubbia credibilità. Nel frattempo, Catalina e Ximena vanno a fare compagnia a Martina. La ragazza è incredula di fronte alla morte del padre. All'improvviso arriva Margarita e trova sua figlia in lacrime. Capendo subito che a suo marito è accaduto qualcosa di grave, corre verso la stanza chiamandolo a gran voce. Entrando e trovandolo già preparato sul letto, chiede a tutti di lasciarla sola con il marito. Poi, prendendogli la mano, tra lacrime e singhiozzi, gli chiede di non lasciarla sola. Nel frattempo, in cucina, Simona e Lope riflettono su cosa preparare per cena e commentano che, se alla fine Candela decidesse di sposarsi, rimarrebbero solo loro due in cucina. Contemporaneamente, Maria Fernandez e Ana discutono nella loro stanza della morte di Fernando. Ana osserva che lo zio di Manuel aveva un cuore debole e che la sua scomparsa era in qualche modo prevedibile. Maria poi cambia argomento e chiede a Ana come procedano le cose tra lei e Abel. Anche Teresa e Mauro discutono del tragico evento riguardante il padre di Martina. Mauro coglie l'occasione per esprimere il suo persistente interesse per Teresa, ma lei risponde che è troppo tardi per questo. Maria Fernandez e Lope sono preoccupati per Salvador. Il ragazzo sembra molto allegro e di buon umore dopo la sua operazione, nonostante non si sappia ancora se l'intervento all'occhio sia stato un successo, ovvero se gli abbia effettivamente restituito la vista. Più tardi quella sera, Abel chiede un bicchiere d'acqua alle cuoche e approfitta dell'occasione per fare domande, in modo discreto, sugli ex amori di Manuel. Tuttavia, Candela e Simona non sanno molto e non riescono a fornirgli informazioni utili. Nel cortile, Petra esprime a Feliciano la sua preoccupazione riguardo al fatto che la morte di Don Fernando possa aver messo fine alle sue aspirazioni. Nel frattempo, Raquel è nell'ufficio di Donna Pia a prendersi cura di Dieghito. Improvvisamente arrivano Ana e la governante e Raquel se ne va. La presenza costante di Raquel vicino al bambino ha fatto sorgere sospetti tra i fan della serie. Potrebbe essere lei, nella realtà, la vera madre di Dieghito? Voi cosa ne pensate? Condividete le vostre opinioni nei commenti. Rimaste sole, Donna Pia confida a Ana, il suo terrore, all'idea che qualcuno possa ancora portarle via suo figlio. Le rivela che è stato Feliciano a rapire il bambino. Nel frattempo, Feliciano e Salvador stanno portando fuori dalla zona di servizio un baule con i vestiti di Don Fernando, decidendo quali vestiti conservare e quali buttare. In questo contesto, Salvador racconta a Feliciano come si disfacevano dei cadaveri in guerra, un ricordo cupo che sembra pesare sulla sua coscienza. Intanto, nell'hangar Manuel è triste, quando improvvisamente arriva Ana. Lui le confessa che la morte di suo zio Fernando ha risvegliato vecchi ricordi dolorosi, riferendosi alla morte di suo fratello Tomas. Ana, cercando di consolarlo, gli dà un abbraccio proprio nel momento in cui Abel entra e li sorprende abbracciati. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete Voglio il seguito nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!